La casa dello Spavos Reales fu spesso solitaria nelle prime settimane della stagione calda. Sabrina non poteva più uscire a cavallo insieme con Marcos e con Emily a Simla e Juanita impossibilitata a lasciare il Gulab Mahal. Ben pochi visitatori frequentavano la grande dimora sulle rive del Gunti. A Sabrina tuttavia non spiaceva la solitudine. Amava le ampie stanze dai soffitti alti e dalle pareti bianche, gli stupendi ritratti, i legni intagliati e gli arazzi che il vecchio conde aveva portato dalla Spagna, lo splendore cupo e demoniaco del magnifico Velázquez che troneggiava su una parete dell'ampio salotto e il profumo degli aranci e dell'acqua sul terreno riarso dei cortili. Amava lo scalpitare degli zoccoli del cavallo che le annunciava il ritorno di Marcos e le passeggiate a due, a tarda sera, lungo le sponde la strecata del fiume. Era felice, di una felicità tranquilla e serena che nulla avrebbe potuto toccare o turbare. Era come se vivesse sotto una campana di vetro, una campana trasparente e scintillante che le permetteva di vedere il mondo esterno ma che la proteggeva dalla sua crudeltà. Amava ed era riamata. Il mondo intero per lei era stupendo e la vita le si stendeva davanti simile a un sentiero ridente, bordato di fiori, lungo il quale lei e Marcos camminavano mano nella mano, leggeri, senza fretta, traboccanti di felicità. Molto più a nord, mentre Aprile si avvicinava alla fine, Shuja, il deposto governatore dell'Afghanistan, decrepito e rimbambito, entrava a Kandahar seguito da McNafton, il delegato britannico. Il fratello di Dost Mohamed, emiro dell'Afghanistan, e i suoi uomini erano fuggiti prima dell'inarrestabile avanzata dell'armata hindù e la popolazione di Kandahar riservò al vecchio Shah Shuja un'accoglienza talmente festosa da indurre McNafton a pensare erroneamente che tutto l'Afghanistan fosse pronto a salutare con gioia la loro marionetta e a deporre Dost Mohamed. Convinzione che il fallimento completo di una gigantesca manifestazione di benvenuto, progettata per due settimane dopo e praticamente disertata in blocco dalla disgustata popolazione afghana, apparentemente non riuscì né a mutare né a mitigare. Alla fine di aprile, Marcos dovette partire di nuovo per il sud. Il padre di Anne-Marie, ritiratosi dall'esercizio della Compagnia delle Indie Orientali, aveva acquistato dei terreni sulla costa del Malabar e aveva iniziato una piantagione. La tenuta aveva prosperato e alla sua morte tutte le sue proprietà erano passate ad Anne-Marie e ai suoi figli. Discutendo sul da farsi, Marcos e Walidad avevano deciso che la cosa migliore sarebbe stata vendere le tenute del sud e investire ricavato nello wood. Erano infatti troppo lontane per essere amministrate di persona. Così i due uomini si misero in cammino alla fine di aprile promettendo di essere di ritorno prima della fine di maggio. «Non sarà per molto che rida», sussurrò Marcos a Sabrina. «Tornerò prima che maggio sia finito, te lo prometto». Ma Sabrina non si lasciava consolare. «Perché devi andare? Perché non puoi mandare Walidad da solo? Non puoi lasciarmi proprio adesso, Marcos? Non lo sopporterei? Ho paura! Che passa? Paura di che cosa, cuore mio? Non lo so. So solo che non posso sopportare di lasciarti andare via. Lascia che Walidad parta da solo». «Dobbiamo andare entrambi, che rida», rispose Marcos abbracciandola. «Ma non appena ci saremo liberati delle tenute e non dovremmo più preoccuparci di affari al sud. Non sei contenta? Non dovrò lasciarti mai più, per più di una notte». «Tu pensi più al denaro che a me», si inghiozzò Sabrina. «Non è vero che rida. La proprietà indubbiamente vale parecchio denaro, ma la metà appartiene a Juanita. E se rimandiamo, disordini e cattiva amministrazione potrebbero distruggerne il valore. Vorresti forse che te rubassi Juanita di una parte dell'eredità di nostra madre solo perché preferisco restare con mia moglie, anziché compiere un viaggio scomodo e noioso, non posso crederlo». Marcos aveva pensato di mandare Sabrina dalla zia prima di partire, poiché per lei non c'era più motivo di rimandare la partenza per le colline, ma Sere Benizer aveva scritto da Simla che Lady Emily aveva avuto un attacco gravissimo di febbre malarica e sebbene ormai fosse convalescente, il suo stato di salute era ancora fonte di preoccupazione per loro. Nel leggere quelle notizie Marcos si rese conto che sarebbe servito a ben poco affidare la moglie alle cure di una donna malata. Lady Emily non avrebbe potuto badare a Sabrina, né lei nel suo stato sarebbe stata in grado di portare sollievo alla zia sofferente. «Verrà da me», decise Juanita. «So che non desidera lasciare i pavos reales e che laggiù è più fresco, ma non è giusto che rimanga da sola proprio ora. La solitudine non va bene per lei nelle sue condizioni. Mandala da me, Marcos. Sarà per poche settimane e dopo tutto e non appena tu sarai di ritorno partiremo per le colline. Il bambino non nascerà fino alla fine di giugno e noi saremo al fresco molto prima della data stabilita. Prenditi cura di mio marito e tornate presto». Sabrina si trasferì perciò nel piccolo palazzo di stucco rosa di Lucknow e guardò Marcos e Wallidad svanire fra gli alberi d'oro nel giardino di Juanita con gli occhi pieni di lacrime. Con la loro pertenza era come se il mondo incantato, nel quale Sabrina aveva vissuto fino a quel momento, fosse andato in frantumi all'improvviso. Marcos le mancava con una violenza che aumentava anziché diminuire, via via che i giorni passavano. Le mancavano anche il refrigerio delle stanze austere, della cassa dello spavos reales e la quiete dell'immenso parco che la circondava. Il Gulab Mahal, il palazzo rosa, era pieno di rumori e le stanze dalle pareti dipinte, scolpite o incrostate di marmi multicolori e madreperla iridescente, con le finestre oscurate da ornamenti di pietra, erano orribilmente calde. Sotto gli innumerevoli balconi scolpiti si stendevano cortili lastricati e giardini pieni di aranci, manghi e alberi di mohur, così chiamati dall'antica moneta d'oro indiana. Di là dall'alto muro di cinta poi premeva la città brulicante con basara follati e moschee dorate, giardini verdi e palazzi sontuosi. Il frastuono della città rimbombava contro le pareti del palazzo rosa giorno e notte, mentre gli unguenti e le essenze usate dalla Begum Aziza e dalle donne Zenana riempivano l'aria del nauseante aroma di legno di sandalo e di olio di rosa. Persino di notte il frastuono non cessava mai completamente. Tambure risuonavano nei labirinti affollati della città, facendo il contrapunto al lamento dei flauti e al tintinio dei sitar, ai latrati dei cani randagi, alle grida dei bambini e al clamore di cavalieri armati che percorrevano gli angusti vicoli o ai canti sgangherati di crapoloni ubriachi che tornavano dal palazzo del re. Con il trascorrere dei giorni la calura si faceva sempre più insopportabile. Durante le ore diurne le pareti, i tetti delle case e il pavimento di pietra dei cortili assorbivano i raggi infuocati del sole e non appena calava la notte sembrava che ogni pietra e ogni mattone della città sprigionasse il calore accumulato, come la porta spalancata della fornace di un vasaio. Sabrina riusciva a dormire alcune ore durante il giorno, poiché spesso soffiava un vento secco, allora porte e finestre venivano lasciate aperte e venivano riparate con specie di tende fatte di radici intrecciate e intrise d'acqua. Il vento caldo, soffiando attraverso le radici umide, rinfrescava le stanze e le riempiva di uno strano e gradevole profumo aromatico. Spesso però il vento non soffiava e comunque moriva sempre al tramonto. Il corpo esile di Sabrina era riarso, era trappito per il caldo e presto cominciò ad anelare l'aria fresca e profumata delle colline come un uomo assetato dopo una lunga siccità, brama l'acqua fredda. Non ci vuole molto perché Sabrina rimpiangesse di non essere andata in marzo da Emily come Marcos avrebbe voluto, ma non sarebbe mai più andata sulle colline con Emily. Marcos era partito da tre settimane appena quando giunse una breve emissiva di Serebenizer Barton. Emily era morta. Aveva avuto una ricaduta, scriveva Serebenizer ed era morta due giorni dopo. Con lei c'era una lontana parente, la signora Grantham. La scrittura di Serebenizer, solitamente così chiara e risoluta, era tremolante come quella di un vecchio avanti negli anni. Sabrina strinse la lettera e restò a fissare a lungo nel vuoto con gli occhi asciutti. Stava rivedendo gli anni lontani a Ware, il volto di zia Emily nella nursery illuminata dai candelieri che insegnava a una Sabrina di tre anni le prime preghiere. Emily che le stringeva alla vita la fusciacca per la sua prima festa e che la proteggeva dalle incessanti lamentelle di zia Charlotte. Emily che le raccontava fiabe di fate e le narrava episodi dell'infanzia di suo padre. Un intero carosello di ricordi, come immagini e riflessi all'infinito da due specchi posti l'uno davanti all'altro, tutte gentili, tutte piene d'amore. Improvvisamente Sabrina ebbe paura, la stessa paura che attanaglia a chi nel sogno entra in una stanza che gli è familiare e la trova completamente mutata, estranea, abbandonata e il sogno diventa un incubo. Di Marcos e Walidad non si erano più avute notizie dopo un frettoloso biglietto spedito dal villaggio nel quale avevano trascorso la prima notte di viaggio, ma ciò non preoccupava né Juanita né la Begum, che conoscevano anche troppo bene lo stato delle strade e le difficoltà di spedire lettere attraverso la DAC, la posta locale, da luoghi fuori mano. Preoccupava invece Sabrina, la cui fantasia evocava, nelle lunghe notti insonni, orrori e calamità. L'India, che un tempo le era apparsa così bella e colorata, assunse sfumature diverse, poiché ormai sapeva che sotto il colore e la bellezza erano in agguato inimmaginabili crudeltà e terrore. Attigua al muro di cinta più lontano del giardino del Gulab Mahal, proprio davanti alla sua finestra, sorgeva una moschea. Era un piccolo edificio senza pretese, di mattoni bianchi e gesso la cui cupola sferica era ornata da una falce di luna di ferro battuto, il simbolo dell'Islam. Il sole sorgeva proprio dietro di essa e ad ogni alba, mentre l'aria era ancora fresca, Sabrina la vedeva in controluce contro il cielo zafferano. E quando, troppo presto, il sole faceva capolino all'orizzonte, disegnava i contorni allungati della mezzaluna sulla parete della sua camera da letto. Quell'ombra strisciava lentamente sul pavimento, mentre il sole si alzava nel cielo color rame e talvolta di notte Sabrina si svegliava e la scorgeva nera e nitida nel chiarore lunare. Per lei finì per diventare il simbolo di tutta la paura e la solitudine di quelle lunghe giornate, come pure di quel senso crescente di abbandono in una terra straniera circondata da gente di una razza sconosciuta. Era come una minaccia e un monito, il segno dell'implacabile calura della giornata che nasceva, una calura che succhiava ogni energia dal corpo di Sabrina e ogni pensiero dal suo cervello. Non era più stata la cassa dello spavos reales da quando Marco si era partito, ma in una sera soffocante, dopo una giornata durante la quale neppure il vento aveva soffiato, Sabrina fu travolta dall'improvviso desiderio di rivedere i giardini e il greto del fiume. Laggiù, ai pavos reales, avrebbe fatto più fresco. Gli alberi, gli spazi aperti e il fiume non avrebbero sprigionato il caldo implacabile della città. Juanita si offrì di accompagnarla, ma Sabrina preferì andare sola. Marcos aveva lasciato a Gulab Mahal una carrozza per le sue necessità e così accompagnata da Zobeida. Sabrina percorse le viuzze soffocanti della città nella quale il caldo sembrava impigliarsi fra le case e presto fu lontano nella distesa spaziosa sulla quale sorgeva la casa dei pavoni circondata da acri di parco. Le stanze chiuse e bui erano soffocanti e le fontane del patio tacevano, ma dopo il rumore il caldo del Gulab Mahal parvero a Sabrina incredibilmente fresche e serene. Vagò distanza in stanza sfiorando la pesante mobilia spagnola e le fragili decorazioni francesi con mano carezzevole, come se fossero vecchi amici ritrovati o in procinto di dire addio. Il fiume era basso, quasi in secca, e da un boschetto di bambù un pavone lanciò il suo aspro richiamo che echeggiò sulla terrazza. Pior! 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 A Sabrina era sempre piaciuto il richiamo del pavone all'imbrunire e all'alba nella cassa dello spavos reales, eppure quella sera ebbe l'impressione che l'aspro grido contenesse una strana, dolente nota di tristezza. Da qualche parte, nelle pianure, oltre il fiume, il suono fu ripreso dall'ululato remoto di uno sciacallo, selvaggio, lamentoso e incredibilmente solitario, tanto che ancora una volta Sabrina fu assalita da una morsa di incontrollabile terrore, simile a quella provata nel leggere la lettera di Emily. Paura dell'India, delle terre selvagge e straniere che la circondavano per migliaia di chilometri, e che nonostante la loro vastità la opprimevano. Occhi scuri, misteriosi, che la guardavano sorgnoni, menti impenetrabili e tortuose che si nascondevano dietro quei volti vuoti e privi di espressione, e ferate crudeltà compiute nei palazzi dei re, e di cui le donne zenana bisbigliavano fra loro. Storie che la Begum Aziza narrava, al chiarore delle stelle, sulla terrazza che sovrastava la città brulicante. Storie di battaglie, di intrighe, di assassini, di regine e danzatrici, di favorite bruciate vive sulla pira funebre dei loro signori, racconti di saccheggi, selvaggi di immense città. E allora regine e mogli e donne scesero in una cripta sotterranea per fare yohar. Si vestirono come per una cerimonia noziale e indossarono tutti gli ori e i gioielli e i tesori della città. Poi le porte furono sbarrate e là sotto innalzarono una grande pira funebre e furono bruciate, e con loro i tesori. Poi gli uomini che ancora rimanevano si armarono e spalancarono i cancelli e si lanciarono nella battaglia e tutti, nessun escluso, furono massacrati. Così, quando San Undin, il conquistatore, entrò con i suoi guerreri nella città, ascolta, fu una città di morti che trovò vuota come il palmo della mia mano. Così Aziza narrava le leggende che formavano la storia macchiata di sangue della sua terra, sebbene non di erado si trattasse di episodi accaduti molti secoli prima. L'India non era poi cambiata molto, solo perché una manciata di mercanti di Londra aveva assoggettato gran parte del suo territorio. Era stata conquistata. Prima di allora, molte volte dai giorni in cui Sikander Dulcan, Alessandro il Grande, aveva combattuto le sue battaglie sul suo terreno e costruito strade e serbatoi e lasciato dietro di sé i suoi vicere senza nome. Greci, Unni, Arabi, Tartari, Patan, Persiani, Mogol, l'India le aveva visti arrivare e aveva contemplato il fuoco del loro potere di vampare alto per poi estinguersi lasciandosi dietro solo cenere e aveva proseguito per la sua strada. Parte di tutto ciò turbinava nella mente di Sabrina, mentre in piedi sulla terrazza della cassa dello Spavos Reales guardava il grosso disco giallo della luna sorgere nella torrida e fosca oscurità. La luce del giorno non indugia in oriente come fa in terre più fresche e il crepuscolo laggiù e poco più che un sospiro fra giorno e notte. Un attimo prima il fiume scorreva dorato negli ultimi scintillanti bagliori del tramonto. L'attimo dopo la luna aveva tracciato il suo sentiero luminoso sulla superficie scura e l'ombra di Sabrina si allungava nera sulla terrazza immersa nel chiarore lunare. Uno sciacallo ululò di nuovo più vicino questa volta e benché la notte non le avesse portato alcun sollievo Sabrina rabbrividì e si girò a guardare la casa. I familiari moribianchi con i balconi di ferro battuto erano sereni e amichevoli come lo erano stati la notte in cui lei e Marcos, freschi sposi, erano usciti sulla terrazza fra gli alberi di limone per guardare gli ospiti partire nel parco illuminato dalla luna. Faceva più caldo lassù che sul greto del fiume. Le pietre che lastricavano la terrazza bruciavano sotto i sandali sottili e senza tacco di Sabrina e solo allora lei si rese conto che si stava facendo tardi. Ma il pensiero di tornare nelle stanze soffocanti degli appartamenti delle donne a Gulab Mahal le ripugnava e indugiò fra gli alberi rilottanti a partire. Un'ombra si mosse poco lontano e Zobeida impaziente le sfiorò il braccio. Poco dopo la carrozza percorreva il viale illuminato dalla luna mentre alle loro spalle i pavos reales venivano lentamente inghiottiti dagli alberi. Forse non la vedrò mai più, disse lentamente Sabrina senza rendersi conto di aver parlato ad alta voce. La calura della città le aggredì, ma le strade e i bazar sembrarono insolitamente silenziosi. Faceva troppo caldo per parlare o per muoversi e gli uomini avevano trascinato i loro giacili per strada e giacevano silenziosi come vittime di una pestilenza. Accanto al cancello del Gulab Mahal c'era un cavallo senza cavaliere, un cavallo stanco coperto di schiuma e di sudore, la testa china sulla polvere bianca della strada. Sabrina conosceva bene tutti i cavalli dei pavos reales. Era Suliman, montato da uno dei servi che avevano accompagnato Marcos nel sud. Il cuore le balzò in petto dalla gioia, ma non era Marcos. Solo un messaggero che portava notizie. La informò il servo che le aprì lo sportello della carrozza. Sabrina scostò impaziente la mano di Zobeida e in un balzo fu a terra. Una lettera di Marcos, finalmente! Forse annunciava che sarebbe tornato a casa presto, solo pochi giorni ancora di attesa. Percorse correndo lo stretto corridoio e le due rampe di scalette che portavano agli appartamenti di Juanita ridendo di gioia. Dopo le scale, fiocamente illuminate, la stanza di Juanita sembrava risplendere di luce ed era piena di gente. C'era la Begumaziza con due figlie e parecchie cameriere. Juanita stringeva in mano una lettera e il suo volto era bianco di paura. Sabrina si fermò di colpo sulla soglia e restò immobile. Aveva le labbra ancora incurvate nel riso e così restarono come se Juanita fosse la medusa che l'avesse trasformata in pietra. Poi la bocca si richiuse rigidamente e qualche secondo più tardi chiese. Marcos, Juanita ha le corse accanto e la strinse a sé. Non fare quella faccia che ride, non morirà. Molti si riprendono, non fare quella faccia. Sabrina la spinse da parte, divincolandosi, quindi si rivolse ad Aziza. Che cosa è successo? Ditemelo. Qual era figlia mia? Uno dei servi di tuo marito ha portato una lettera di mio figlio, ha pensato che fosse giusto che sapessimo, in modo che si fermò a metà frase e quindi riprese. Ma tuo marito è giovane e forte, guarirà, non temere. Non devi preoccuparti troppo, cuoricino mio. Fra pochi giorni starà di nuovo bene. Dal colera guariscono molti che non sono né giovani né forti come lui. Sabrina non la sentiva più. aveva sentito solo una parola. Colera. Il flagello traditore e temuto dell'Oriente. Marcos, aveva il colera. Oh, poteva essere morribondo ormai. Morto. Doveva correre da lui. Doveva correre subito. Guardò i visi che la tornavano, cercando di metterli a fuoco. Visi oscuri e ansiosi, occhi scuri e ansiosi. Le guance terre di Juanita erano gentili, lo sapeva, ma avrebbero cercato di fermarla. Le avrebbero impedito di correre dal suo Marcos. Sulimane era legato al cancello. Poteva raggiungerlo. Poteva galoppare da Marcos e non l'avrebbero più raggiunta. Indietre gioco, con estrema lentezza, Juanita fece un rapido passo verso di lei con la mano tesa e la stanza gremita di volti. Sembrò gonfiarsi e sommergere Sabrina. Disperata si girò e corse verso le scale. Fissò il baratro scuro che si spalancava davanti a lei. Quindi udì alle sue spalle uno scalpiccio di passi e si girò per guardare. Poi si sentì cadere, cadere, cadere in un turbine di oscurità e di caldo che si dischiuse e l'avvolse. La figlia di Sabrina nacque all'alba dopo una notte di dolori squassanti e Juanita, vedendo le labbra esangui muoversi, si chinò per afferrare le parole sussurrate. Non farle, toccare. No, no, la rassicurò Juanita senza sapere di che cosa parlasse. L'ombra, insiste Sabrina. Era troppo sfinita per girare la testa, ma non gli occhi, e seguendo il suo sguardo Juanita lo vide indugiare sulla strana ombra ricurva della falce di luna che il sole appena sorto dipingeva sulla parete. Rapidamente si alzò e avvicinò i pesanti scuri di legno che avrebbero dovuto essere chiusi un'ora prima per mantenere quella poca frescura che la notte aveva portato nella stanza. Sabrina chiuse gli occhi e perse i sensi, mentre Zobeida, accocolata accanto a lei, continuava instancabilmente a farle aria con un ventaglio. Nel tardo pomeriggio mosse la testa e pronunciò una sola parola. Acqua! Beve avidamente ma con difficoltà. Azisa le portò un minuscolo fagottino e glielo depose accanto, ma gli occhi di Sabrina restarono chiusi e non vi prestò alcuna attenzione. Giaceva immobile e la sua mente vagava verso Ware nella stagione invernale, verso i venti freddi e le vaste pianure innevate, delimitate da boschetti di tassi, e gli alberi spogli che disegnavano oscure ombre contorte contro il cielo, verso i ghiaccioli che ornavano come merletti le grondaie. Se solo fosse rimasta immobile, assolutamente immobile, se non avesse fatto il minimo gesto e si fosse trattenuta da respirare, forse avrebbe potuto farli diventare realtà. La minuscola creaturina accanto a lei si agitò e mise un flebile vagito e quel suono sembrò penetrare attraverso le nebbie che le offuscavano il cervello. Girò la testa, si costrinse a sollevare le palpebre e a guardare la bambina che giaceva accanto a lei. Era così piccola che somigliava più a una bambola che a un neonato vero. Non era rossa come la maggior parte dei bambini appena nati, bensì candida come il latte, con i capelli simili a seta nera. Il braccio di Sabrina si strinse debolmente attorno al fagottino e l'ombra di un sorriso le contrasse le labbra. «Non è bella tua figlia?» le disse Juanita. «Come l'inverno», sussurrò Sabrina. «Come e che cosa, che rida? L'inverno, aware, neve e alberi, inverno, winter». La voce le mancò e gli occhi tornarono a chiudersi ma non dormiva. Il calore della stanzetta aggrediva il suo corpo inerte come una fiamma invisibile. Fuori dalla finestra, sbarrata, il sole martellava la città come un maglio gigantesco e attorno alle mura le pianure torride si stendevano a perdita d'occhio, fino all'orizzonte rovente. Da qualche parte laggiù c'era Marcos. Marcos! Marcos! Era già morto! Forse non avrebbe mai saputo di avere una figlia, una bambina, bianca e lieve come un fiocco di neve. un'improvvisa paura, una paura puramente materna, assalì Sabrina. Se Marcos fosse morto, se anche lei fosse morta, che cosa ne sarebbe stato della bambina? Emily si occuperà di lei. «Ma Emily era morta!» «Juanita? No, no!» urlò Sabrina dentro di sé. «Non questa vita per la mia bambina?» Il nonno. Lui avrebbe avuto cura della bambina. L'amava. Quelle lettere rose non significavano nulla. Sabrina fu invasa da un irrefrenabile senso di urgenza. Il tempo le sfuggiva come sabbia fra le dita. Doveva scrivere a Ware subito, prima che fosse troppo tardi. Strinse i denti e, chiamando a raccolta tutta la sua volontà, si sollevò sui cuscini e si udì un fruscio di sete a Juanita le fu accanto. «Che c'è? Che c'è, che ride? Non muoverti! Devo scrivere una lettera!» bisbigliò Sabrina. «Una lettera! Where? Devo scrivere immediatamente!» «Domani! Domani, hija, domani!» «No, no!» si agitò Sabrina disperatamente, lottando contro le mani che la trattenevano. «Adesso! Subito! Quando è così la scriverò io per te!» le disse Juanita rassicurante. «Mi dirai che cosa devo scrivere, eh? Adesso mi siedo qui accanto a te e scrivo». Juanita scrisse sotto la dettatura di Sabrina e impresse sulla carta le parole che uscivano così lentamente con tanta difficoltà in un flebile gemito sussurrato. Scrisse in francese dal momento che, pur parlando correntemente l'inglese, non era in grado di scriverlo con facilità. Guardando il volto di Sabrina e quelli di Aziza e di Sobeida, ebbe paura, mentre lacrime che non permise all'amica di scorgere macchiavano il foglio che aveva davanti. «Occupati di lei!» Sabrina implorava il nonno. «Se qualcosa dovesse succedere a me o a Marcos, se non potremmo prenderci cura di lei, la lascio a te. Nonno carissimo, occupati di lei per me. Non so come scrivere un testamento, ma questa lettera è il mio testamento. Se Marcos morirà, lascio tutto a mia figlia e lascio mia figlia a te». Quando ebbe finito, la Begum e Zobeida la sollevarono e mentre Juanita le teneva la mano, Sabrina firmò con grande fatica. Juanita piegò il foglio e lo mise via mentre Sabrina le sorrideva. Un grosso peso era stato sollevato dalle sue spalle. Chiuse gli occhi e dormì. Al tramonto, Zobeida aprì gli scuri e spruzzò dell'acqua sul balcone di pietra e Sabrina, svegliandosi, udì il familiare sfrigolio dell'acqua sulle pietre roventi. Il cielo oltre la finestra era già verde e una stella si era accesa proprio sopra la linea frastagliata dei tetti. Ma l'aria non era rinfrescata e Sabrina boccheggiò. Mentre nella stanza si faceva buio, Juanita accese una piccola lampada a petrolio. Le ombre crearono una specie di nebbia sotto il soffitto a volta e i rilievi, che sulle pareti riproducevano alberi e uccelli e fiori, sembrarono muoversi al soffio di una brezza inesistente. Vedendo che era sveglia, la Begumaziza le portò di nuovo la bambina. Come la chiamerai? Le chiese Juanita. È con noi da mezzagiornata e ha il diritto di avere un nome. Sabrina fissò la minuscola creatura dalla pelle candida che le dormiva accanto e improvvisamente ripensò a una favola che qualcuno, forse sia Emily, le aveva raccontato in un giorno d'inverno a Ware, la favola di una regina che sedeva alla finestra in un giorno di neve filando la lana con un fuso di ebano e che aveva desiderato una figlia con la pelle candida come la neve e i capelli scuri come l'ebano. Winter, sussurrò Sabrina. Winter? Ma non è un nome vero, querida. Deve avere un nome bellissimo. È un nome bellissimo. Juanita non poteva rendersi conto di quanto fosse bello. Non aveva mai visto la neve e i boschi a dicembre. Conosceva solo i colori vivaci di quel paese riarso dal sole e per lei il caldo non era un peso intollerabile come lo era per Sabrina. Non poteva sapere che cosa significasse desiderare ardentemente un cielo grigio, i venti freddi e la carezza fredda dei fiocchi di neve. Sabrina girò la testa sul cuscino bollente e guardò la luce della luna oltre la finestra aperta e dove l'impressione che la cupola candida della moschea e le mura illuminate e le ombre scure degli aranci fossero campi innevati e boschi d'inverno e cominciò a parlare con voce limpida e forte. Era inverno e stava nevicando e Sabrina piangeva perché Charlotte l'aveva chiusa a chiave in un'aula calda permettendole appena di vedere attraverso le finestre chiuse il parco candido dove l'era proibito giocare. Lo vedeva come se l'avesse davanti, le distese innevate punteggiate da alberi spogli, il pendio che saliva verso la barriera di alberi scuri che facevano corona al parco. Lottò per raggiungerli ma mani sconosciute la trattennero poi di colpo le mani ricaddero e una porta si aprì. Sabrina corse fuori dalla stanza lungo corridoi familiari e giù per le ampie scalinate. Soffiava un vento profumato di boschi invernali e finalmente aveva raggiunto la neve fredda, scintillante, stupenda e non aveva più caldo ma freddo, freddo, freddo. Zubeida e la Begum corsero a cercare coperte imbottite e le avvolsero attorno al corpo tremante mentre la febbre saliva. Sabrina non se ne accorse e verso l'alba spirò. Il cielo stava schiarendosi e presto il sole spuntò riempiendo la stanza soffocante della sua luce aspra e disegnando contro la parete l'ombra ricurva della cupola della moschea che confinava con i giardini del Gulab Mahal. Ricordando quanto Sabrina temesse quell'ombra, Juanita si alzò e attraversata silenziosamente la stanza, chiuse gli scuri, alla calura del nuovo giorno.